Ha partorito da sola nel bagno di casa sua via Tagliamento alle prime luci dell'alba intorno alle 4. Chiara, a 42 anni, Casalinga non sapeva nemmeno di essere incinta. Colto di sorpresa anche il marito della donna che ieri al momento del parto era al lavoro presso una fabbrica in Alta Erpina. Un evento che ha dell'incredibile per come è stato gestito lucidamente dalla neomamma. Hanno dichiarato i responsabili del reparto di ossettrice e ginecologia dell'ospedale Moscati. Chiara in questi giorni di vigilia della festa di Sant'Anna si era recata nella chiesa di Via Rifugio pregando la santa protettrice delle partoriente di farle la grazia. La notizia appena diffusa si in accento storico ha fatto gridare al miracolo i residenti commossi familiari di Chiara per la sorella della partoriente. Uno dei titolari di un sale tabacchi situato proprio di fronte alla chiesa di Sant'Anna. Si tratta di un prodigio, incontenibile la sua gioia. Li auguri! Allora Chiara è partorita tratto da sola. Da sola? Si, 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 si. Ci ha fatto una bella sorpresa questa notte. Si. All'improvviso ha chiamato dicendo io ho partorito. Ho fatto un bel maschietto, sta piangendo pure, venetemi a prendere. Dopo 15 anni di attesa, un bel miracolo. È un miracolo di Sant'Anna, possiamo dire. Possiamo, si. Perché è la santa che aiuta le partorienti. La santa che aiuta le partorienti, noi possiamo dire impettai. Si. Poi mia sorella ha i miei bambini, lei e il mio cognato, un bacio grande se lo meritano. E poi voglio dire, tua sorella è stata davvero molto coraggiosa, molto lucida in un momento difficile. Si, 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 si. Le ha fatto tutto, 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 tutto da sola. Ha fatto il travaglio da sola, ha partorito da sola, ha preso i bambini, ha controllato se respirava, ha tolto i mucchetti. Ha fatto tutto sola, ha controllato pure, si. Come un'infermiera. Era istruita su come fare. Si, ho mamma natura veramente, di l'istinto, non lo so. Non ho idea. Ma è vero che lei ignorava di essere incinta? Si, 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 si. Anche perché 15 anni, quindi oramai hanno perso ogni speranza. Sia lei che il marito, si erano rassegnati al fatto di non poter avere bambini. Fiocco azzurro o fiocco rossa? Fiocco azzurro, è nato Gabriele. 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 Allora auguri a Chiara. Signora, ha sentito che storia? Un'ammirata lei che è una giovane mamma. Mia cugina, infatti. Non ho parole. È commossa per... Sì. Troppo. Miracolo di Sant'Anna e poi lei, al di là del miracolo, che si è dimostrata davvero una mamma coraggiosa. Sì. Chiara. In tutti i sensi. Auguri. Auguri, grazie, grazie.